Il Century Hotel di Parma gode di un'ubicazione privilegiata vicino alla stazione ferroviaria e a breve distanza dal centro storico, dal quale è comodamente raggiungibile a piedi e con i mezzi pubblici. Il Century Hotel è dedicato a chi perdilige l'eleganza e la raffinata cura degli ambienti. 53 camere confortevoli ed accoglienti aredate in modo elegante e con colori tenui. L'attenzione meticolosa per i dettagli riesce perfettamente ad armonizzare la struttura con l'ambiente. Tutte le camere sono dotate di frigobar, televisore LCD, impianto Wi-Fi, connessione a internet Wi-Fi, impianto di climatizzazione autonomo, cassette di sicurezza ed asciugacapelli. L'hotel possiede un ampio parcheggio e due garage coperti, che permettono all'ospite di utilizzare i mezzi pubblici per godersi liberamente la città di Parma, capitale internazionale del food e della musica, famosa per i suoi prodotti e per aver dato i Natali a Giuseppe Verdi. Grazie a tutti i nostri amici.